E qual è quindi il senso di questo ritiro? Le prime volte che venivano in Nazionale Cantanti era un classico, se ne facevano quattro, tre, quattro ogni anno. E la cosa bella era, vabbè, giochi a pallone, però in realtà era stare assieme, passare le serate assieme, facevamo riunioni in fiume. La storia della Nazionale Cantanti passa attraverso i ritiri, cioè la squadra, il modo di cementare amicizie. Ci sono stati ritiri storici negli anni 80, quando io ero un ragazzino. I ritiri sono stati sempre molto, molto importanti. E il fatto che noi oggi torniamo di nuovo a creare l'opportunità di un ritiro è molto, molto positivo, vuol dire che c'è una rinascita che si vuole stare insieme per conoscersi meglio. Molta gente pensa che la Nazionale Cantanti sia la squadra che va a fare la partita del cuore sul Rai 1 negli stadi grandi, ma in realtà tanta gente non sa che la Nazionale Cantanti lavora 365 giorni all'anno. Non mi attacchi perché qua non puoi. Io ti ho visto fare il presentatore ai pacchi di affari tuoi. Direttamente te lo dico, il tempo non è cupo, ricordati c'è il sole quando canta sempre Pupo. Direttamente te lo dico e cosa è stato, e Moreno e Pupo si prendono un gelato al cioccolato. dire che la storia della Nazionale adesso dobbiamo andare ad allenarci, però tutto quello che hai, che avete, che abbiamo da raccontare forse vorrebbe la pena di raccoglierlo in un contenitore come un film. Grazie per la visione!